... Estate flop in Sardegna, secondo i dati del sindacato italiano Balneari. Presenza in calo tra il 20 e il 30%, in calo soprattutto gli italiani, ma Alguero resiste tra le mete preferite del nord Sardegna. Fa discutere la scelta dei commissari per alcune strade sarde da completare, tra cui la Sassari Alguero e il governo pronto ad affidarsi all'ANAS, critiche dall'assessore Fronge e dall'ex consigliere regionale Marco Tedde. Capitaneria a cambio di guardia portaterra, con i saluti del sindaco Conoce e dell'assessore di Gangi, Roberto Fronte lascia Alguero, al suo posto arriva il tenente di vascello Pier Claudio Mosco Giuri, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Pesaro. Ben ritrovati telespettatori di Catalan TV, questi erano i titoli dell'edizione di oggi del nostro telegiornale, che apriamo parlando dell'estate. Estate flop in Sardegna, con presenza in calo tra il 20 e il 30%, è quanto emerge dalle rilevazioni del sindacato italiano Balneari. Da questo quadro fosco però sembra uscire proprio Alguero, che sarebbe tra le località isolane che hanno registrato un flusso maggiore di bagnati. Sentiamo. Tempo di primi bilanci per la stagione estiva ormai agli sgoccioli e secondo la stima dei vertici dei regionali del Sib, il sindacato italiano Balneari, si profila un'estate nera per la Sardegna, con un calo degli arrivi stimato tra il 20 e il 30% rispetto al 2018, dovuto soprattutto alle defizioni degli italiani. È quanto riportato in questi giorni dal quotidiano La Stampa, che ha stilato anche una classifica delle mete preferite degli italiani sulla base dei dati diffusi dal Codacons. In questo caso il primato è andato alla Puglia, scelta dal 21% delle famiglie e seguita da Sicilia, Toscana e Liguria. Più indietro la Sardegna, che, come detto, ha pagato il calo dei connazionali, la cui presenza concentrata, soprattutto ad agosto, è in forte diminuzione, testandosi sul 30% del totale, mentre il restante 70% di vacanzieri è rappresentato da stranieri, soprattutto inglesi, russi, francesi, americani e cinesi, che invece scelgono di programmare le loro ferie nell'isola tra giugno e settembre. Il tempo instabile di aprile, maggio e giugno, con piogge e temperature al di sotto delle medie stagionali, ha inciso in modo negativo sulle presenze complessive e su un'inevitabile riduzione del fatturato degli operatori turistici. Tra le località sarde, che hanno registrato un flusso maggiore di bagnanti per quanto riguarda il nord dell'isola, comunque c'è Alghero, in compagnia di Sant'Iodoro e Santa Teresa di Gallura, mentre per il sud Sardegna le spiagge più frequentate sono state quelle di Villa Simius, Chia e Santa Margherita di Pula. Ora non resta che attendere gli altri dati per fare un consultivo più approfondito. In primis quelli di Federalberghi, anche se le previsioni dell'Associazione degli Albregatori diffuse a luglio sembravano poco confortanti. E rientriamo in studio. Come preannunciato nei giorni scorsi, questa mattina nell'Aula Consiliare di Via Colombano si è svolta una riunione congiunta della Commissione Lavori Pubblici presieduta da Monica Polina e della Commissione Sport e Servizi Sociali guidata da Pepinetto Musu per fare il punto sui lavori della piscina comunale. Presenti anche due assessori di riferimento, quello alle opere pubbliche Antonello Pero e allo Sport, Maria Grazia Salaris, un'opera che nei mesi scorsi ha subito dei rallentamenti ma che potrebbe vedere finalmente la luce entro la fine dell'anno. Sono sorti infatti dei problemi per la copertura con un pezzo rovinato così durante il trasporto ma la situazione dovrebbe sbloccarsi entro questo mese. Operai che intanto sono a lavoro, in questo momento impegnati con il rifacimento degli impianti elettrico e idrico. Ma sentiamo proprio le parole dei presidenti delle due commissioni Monica Polina e Pepinetto Musu che hanno programmato per giovedì un sovraluogo all'edificio di Viale della Resistenza che ospitava il centro residenziale Anziani. Oggi in qualità di presidente della terza commissione lavori pubblici insieme al collega Musu che è il presidente della commissione servizi sociali abbiamo deciso di convocare i lavori per aggiornarci su quello che è lo stato dei lavori per quanto riguarda la piscina comunale. La piscina comunale è stata approvata nel programma triennale dell'opera pubblica dalla precedente amministrazione Bruno e i lavori dovevano essere consegnati nell'ottobre del 2018. Purtroppo questo non è avvenuto e quindi sono tanti i cittadini che comunque ci chiedono come mai i lavori si stiano allungando così tanto. Quindi oggi avremo la relazione dell'assessore Peru e dell'assessore Salaris, quindi l'assessore dei servizi sociali e l'assessore ai lavori pubblici per capire quali sono gli ostacoli che non consentono quindi la realizzazione e quindi la fine di questi lavori. Ricordo che la piscina comunale è l'unica piscina pubblica presente nella nostra città e che purtroppo per la seconda stagione i cittadini algheresi non possono usufruire dell'unica struttura presente in città. Questo è un problema importante. L'amministrazione centrodestra ha dato grossa importanza a quella che è la riqualificazione degli impianti sportivi, a quella che è la riqualificazione e l'importanza dello sport nella nostra città. Quindi oggi ho ritenuto doveroso quindi convocare la commissione che spero possa essere utile a tutti i commissari e soprattutto a dare quelle risposte che i cittadini algheresi ancora aspettano. Oggi commissione congiunta, terza e quarta commissione, la terza commissione presidente Monica Pulina, lavori pubblici, quarta commissione servizi sociali e sport, il presidente sono io. Dopo la pausa estiva riprendono i lavori dell'amministrazione e iniziano anche a funzionare le commissioni. Oggi si parlerà della piscina comunale, vediamo lo stato dei lavori, a che punto sono e vorrei ricordare che la stessa commissione congiunta si riunirà giovedì per andare a controllare invece lo stato delle cose del CRA, Centro Esistenziali Anziani in Viale dell'Esistenza. Giustamente le due commissioni si sono unite perché il connubio con la piscina, sport e lavori pubblici è perfetto in una città poi di mare come la nostra Alghero. Parliamo ora della strada Sassari-Alghero perché per alcuni cantieri stradali sono in arrivo i commissari ma fa discutere che questi possano far riferimento all'ANAS. L'ex consigliere regionale Marco Tedde auspica inoltre che le decisioni assunte dalla commissione tecnica di valutazione ed impatto ambientale vengano ribaltate dal Cipe. Nell'elenco di 77 opere che il governo avrebbe deciso di commissariare, 9 sarebbero sarde, tra queste anche l'otto mancante della Sassari-Alghero. Ma secondo quanto trapela da Roma, la scelta dei commissari potrebbe ricadere sui dirigenti dell'ANAS, mentre la regione aveva chiesto l'indicazione dell'assessore ai lavori pubblici o del governatore. Diciamo un secco no ai commissari nominati da ANAS per la realizzazione dell'infrastruttura in Sardegna, tuona l'ex sindaco e consigliere regionale Marco Tedde. Una decisione inaccettabile, secondo l'esponente Azzurro, perché per accelerare i tempi della realizzazione di opere pubbliche strategiche per l'isola viene attribuito ad ANAS che è il principale responsabile dei ritardi, il potere di nomina dei commissari. Secondo l'ex sindaco, è necessario che il presidente Solinas venga nominato commissario con facoltà di nominare subcommissari per ogni opera. Per la Sassari-Alghero però, secondo Tedde piove sul bagnato, visti gli stop e le singolari decisioni assunte dalla Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale, col parere del 5 luglio scorso, che, dice, auspichiamo vengano ribaltate dal Cipe. Non è accettabile, denuncia il forzista, che per il progetto dell'arteria stradale Sassari-Alghero si preveda una strada extraurbana non più a quattro, ma due corsie per l'8-1 di 3,5 km da Rusas alla Taulera e quattro corsie urbane con pesanti limiti di velocità dalla Taulera al Carmine e altre amenità, quali una galleria sotto Montagnese e l'eliminazione della circonvallazione a nord. Il presidente Solinas prende una netta posizione, rappresenta a Conte, con modi decisi, la drammatica situazione infrastrutturale viaria dell'isola e la necessità che queste emergenze vengano affrontate attribuendo al presidente della regione i poteri commissariali e la medesima posizione, aggiunge Tedde, sarebbe opportuno che l'assuma il Consiglio regionale con un ordine del giorno. Ieri intanto, sulle notizie arrivate da Roma riguardanti le opere commissariate, si era fatto sentire anche l'assessore regionale ai lavori pubblici, Roberto Frongia. Se fossero vere le indiscrezioni degli ultimi giorni, secondo cui tra quelle interessate figurerebbero solo alcune opere di viabilità rispetto a quelle ritenute strategiche dalla regione, sarebbe evidente la mancanza di attenzione con la quale si è affrontato il dossier infrastrutturale sardo, trasmesso con dovizia di dettaglio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratterebbe di uno sgarbo istituzionale nei confronti della regione, a cui non voglio credere. Dovrei in quel caso constatare come non si sia compresa la situazione di assoluta gravità che riguarda la viabilità dell'isola, dichiarato l'esponente dell'Aggiunta regionale. Ancora più grave, secondo Frongia, sarebbe rilevare che la nomine eventuale dei commissari, quando verrà trasmesso l'elenco alla regione, non sia in capo al Presidente Solinas come richiesto. Non potremmo accettare come commissario nessuna figura, men che meno proveniente da ANAS, che non faccia diretto riferimento a questa giunta regionale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rientriamo in studio. Saluti a Portaterra tra comandanti del Porto di Alghero. Il sindaco Mario Conoci, alla presenza anche dell'assessore Marco Di Gangi, ha ricevuto ieri mattina il comandante Roberto Fronte, che lascia l'incarico per la nuova destinazione a Roma, presso il comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Al suo posto arriva il tenente di Vascello Pierclaudio Moscugiuri, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Pesaro. I temi della portualità, dello sviluppo del Porto di Alghero e delle prospettive di collaborazione sulla prevenzione dell'ambiente hanno visto consolidarsi un'ampia convergenza sulle iniziative da attuare. Il Porto di Alghero è la città di Alghero, ha detto Mario Conoci, e la nostra attenzione sarà massima sulla programmazione del suo sviluppo. Via Cavour nel centro storico chiuderà invece al traffico per tre giorni, da domani e sino a venerdì per un nuovo intervento sulla rete fognaria, nonostante quello abbastanza recente eseguito due anni fa. Nei giorni scorsi infatti si è verificata un'ostruzione delle fogne e da domani una ditta di Porto Torres interverrà per conto di Abbanoa per cercare di risolvere definitivamente le problematiche. Chiusura del traffico comunque prevista dalle 8 alle 17 con possibilità di derogacqua. Allora la circolazione dei veicoli risulti compatibile con le esigenze tecniche connesse al delicato intervento in atto. Ha preso il via oggi la serie di testa numero programmato nazionale. Si comincia con la prova di ammissione e corsi dell'Università di Sassari, Medicina e Odonto Iatria al Palla Serra di Mini di Piazza Lesegni. Il test è cominciato questa mattina alle 8.30. I posti in medicina sono 139 più 4 per cittadini non comunitari residenti all'estero. In Odonto Iatria sono 28 più 2. A seguire domani mercoledì 4 settembre si svolgerà il test d'ingresso per medicina veterinaria. In tutto 40 posti più 6. Il 5 settembre sarà il turno dei candidati in scienza dell'architettura e del progetto. I posti qui sono 60 più 10. L'appuntamento per entrambi i test è nelle aule A e B del complesso didattico di Via Vienna 2. I candidati dovranno presentarsi entro le 8.30 muniti di un valido documento di identità. Si proseguirà mercoledì 11 settembre di nuovo al Palla Serra di Migni con il test delle professioni sanitarie. Sono disponibili 145 posti più 4 in infermeria, 16 più 2 in ostetricia, 24 più 2 in fisioterapia, 28 più 2 in tecniche di laboratorio biomedico. Tutti i test preparati dal consorzio Cineca per il MIUR saranno costituiti da 60 acquisiti con 5 opzioni di risposta da svolgere in 100 minuti. E' pubblicato inoltre il bando per il corso di laurea magistrale in scienze infermeristiche e ostetriche con la scadenza alle ore 12 del 10 settembre. La prova di ammissione si terrà il 25 ottobre alle 8.30 in Aula Magna e nell'Aula A del complesso biologico di Viale San Pietro 43B. I posti disponibili in questo caso sono 50. Ed ora facciamo l'ultima pausa per la pubblicità. Progetti di rigenerazione urbana con i bambini delle scuole protagoniste. La grande scommessa della città intera come spazio fisico per la cultura, l'arte, il teatro e il cinema. E' confertilia che si ripropone come epicentro di un distretto delicato, laboratori artistici e poi il gran finale con le piazze in vase da clown, giocolieri, acrobati, musicanti e attori. Mamma Tita Festival ritorna con un calendario di eventi, appuntamenti, collaborazioni ed esperimenti più ricco che mai. Dal 1 al 29 settembre il centro storico di Alghero, distretto della creatività, le piazze dei quartieri popolari della Borgata Giuliana, così come la scuola della Sfodelo, si trasformeranno in un grande palcoscenico grazie all'associazione teatrale Spazio E.T. al lavoro della direttrice artistica Chiara Murru. Il festival è diviso in tre blocchi. Nei mesi scorsi l'istituto scolastico comprensivo di Via Sfodelo è stata la base di un programma di rigenerazione, scusate, dei suoi spazi esterni. Dalla prossima settimana il distretto della creatività diventerà il fulcro di una sessione di laboratori aperti a tutti. Da metà mese invece via la parte performativa della Kermess. Il club quest'anno sarà rappresentato dallo straordinario ritorno in Sardegna del Magda Clan Circo, con uno spettacolo inedito e la prima volta nell'isola di Dynamis. Lo chapito atterrerà a Fertilia, nella piana accanto a Piazza San Marco, volendo simbolicamente rappresentare quel che la Borgata sogna di diventare. Il tendone ospiterà non solo il loro straordinario spettacolo circense, ma anche cinema e teatro. Merito delle collaborazioni con Società Umanitaria Sardegna Teatro, partner artistici di una manifestazione finanziata da Fondazione Alguero e sostenuta attivamente da numerosi partner privati, a iniziare dalla Grimaldi Lines per proseguire con Delta Cop, Tocco del Prete, Bans, Scima e Amare. Tanto per citarne alcuni, si legge nel comunicato dell'organizzazione. Per continuare a crescere e per poter proseguire la propria missione, la Kermess potrà essere finanziata con un'azione di crowdfunding gestita attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, alla voce Mamatita Festival 2019, anche con piccole donazioni. Per informazioni e iscrizione è possibile contattare il 349-138-1151. Riscuote l'apprezzamento dei visitatori. La mostra Sonos de Canna, promossa dall'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi, inaugurata domenica pomeriggio, alla presenza anche del Presidente del Consiglio regionale, Onorevole Michele Pais. La canna vegetale umile è la materia prima con la quale sono costruiti i più antichi strumenti tradizionali della Sardegna, alcuni risalenti all'epoca pre-nuragica e tuttora diffusi in tutta l'isola. Si possono ammirare benas di diversa lunghezza, con campana fatta di corno, bena con corru o di zucca, bena con crucuriga, fino a quelle a sacco con due o tre canne di cui una fisse e le altre con diversi registri d'estensioni, tali da produrre suoni vicini a quelli dell'organo. Si giunge infine alle Launeddas, lo strumento musicale sardo più conosciuto. Suscita curiosità, sa serra già lo strumento antisignano del contrabbasso, costruito con una vescica essiccata di maiale, con corda fatta di budello, che veniva suonata con un archetto con filo di budello. Le benas e le Launeddas attualmente sono oggetto di nuovo studio ed uso da parte dei musicisti per le sonorità che producono, sempre più spesso entrano a far parte delle orchestre sinfoniche e dei complessi jazz. Con il patrocino dell'assessore all'istruzione Maria Grazia Salaris, l'Istituto Musicale di Alghero darà seguito alla mostra con laboratori etnomusicali nei quali si insegnerà ai bambini della scuola elementare e della scuola media a costruire e suonare questi strumenti tradizionali. L'iniziativa tende in particolare a far rinascere un'attività artigianale ormai in via d'estinzione, quella degli strumenti dei magnifici Sonos de Cannes. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, come sempre vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.